buon pomeriggio a tutti eccoci qua per il nostro terzo appuntamento di quest'oggi con analis group oggi la nostra convention day abbiamo parlato di super bonus abbiamo parlato di rilevo tecnico abbiamo parlato del matter port delle delle opportunità legate all'uso della soluzione matter port abbiamo avuto la nostra panoramica sulle soluzioni su successioni e volture e siamo arrivati alla volta delle quinte delle diciassette e quindici con il nostro approfondimento sul super computo che cosa andremo a vedere l'impostazione dei quadri economici nel super bonus e la gestione dei massimali con me abbiamo l'esperto beniamino crescitelli noi siamo analis group software house dedita allo sviluppo delle soluzioni software per settore edilizio e non solo e io direi di passare subito la parola a beniamino per far sì che possa rappresentare il nostro nuovo super computo beniamino tu ci sei buon pomeriggio a tutti ok solo condividere lo schermo sì sei attivo sei operativo vabbè buonasera a tutti allora in questo piccolo intervento vi mostriamo come adoperare il nostro software per la computazione per compilare correttamente una pratica per super bonus sia super bonus eco bonus che ma bonus per chi già lo conosce quando 2022 si presenta in questo modo qua e chi non lo conosce è l'occasione di diciamo di presentarlo il software il software a queste tre finestre sostanziali diciamo sono le le più importanti la finestra del tarifario a cui poi si sovrappone quella dei documenti del computo più la finestra movimenti elenco prezzi lavori e la finestra adesso dei da generali ma poi vedremo la finestra la zona in cui andremo a mettere le misure quindi questo è il programma un'interfaccia abbastanza leggera e semplice i tarifari sono presenti sul nostro sito quindi potete collegarvi direttamente da software oppure alla pagina tarifare del sito e quindi scaricare i tarifari cliccando su controllo aggiornamenti web mi sono collegati alla pagina del nostro software quindi cliccare sul sulla sulla regione scaricare il tarifario il tarifario è un auto installante e quindi con doppio clic procederemo proprio all'installazione lui si scompatterà nella cartella file dati del percorso del software quindi da quando poi possiamo questo adesso è sempre il tarifario quindi da quando possiamo passare a caricare i tarifari i tarifari sono organizzati quindi vedete i tarifari in questo caso è campania ma come lazio come diante altri tarifari sono strutturati in capitoli sotto capitoli e voci cliccando su una voce io vedo subito descrizione prezzo chiaramente posso anche intervenire potrei intervenire sulla voce per poter modificarne prezzi e tutto il resto ma generalmente diciamo non conviene modificare una voce del tarifario regionale ma se mi serve intervenire sulla descrizione oppure voglio modificare il prezzo me la trascino nel mio compito e per me la modifico nel mio compito così come vi farò vedere quindi tarifario strutturato vista movimenti elenco prezzi lavori i lavori vado a creare quindi andremo a creare adesso per la parte super compito tutta la struttura della diciamo della pratica in cui poi andremo ad inserire la voce di elenco prezzi e quindi andremo a mettere i movimenti partiamo subito quindi da definire una pratica super bonus che cosa dobbiamo fare l'unica differenza è questa rispetto a un comodo generale cioè preparare una struttura già preformata per quello che riguarda la pratica con gli stessi codifiche degli interventi previsti dall'enea quindi strutturare un comodo in questo modo qua il comodo oltre ad avere un aspetto tecnico anche un aspetto fiscale quindi ci permette permette a chi lo legge di andare a leggere direttamente il capitolo dell'intervento è il relativo importo perché poi alla fine per chi legge il compito non ha bisogno di leggere tecnicamente le misure ma sapere quali sono gli importi a quale classificazione sono riferiti quindi gestione documento super bonus si appare questa schermata in questa schermata noi andremo a creare le unità immobiliari più di una se sono condomini o una se per esempio abbiamo il caso di un unifamiliare e ad assegnare diciamo alle unità immobiliari gli interventi che intendiamo definire nella nostra pratica quindi quello che dobbiamo fare attraverso questa schermata creare una unità l'unità l'abbiamo definita attraverso i dati cadastali che sono poi quelli importanti e necessari nell'istruttore della pratica quindi foglio 12 particella 25 sub 7 ok vedete ne ha creato un'unità così posso crearne altre cioè se io intendo fare un computo per condomini è opportuno dividere gli interventi e le misure per sub quindi però per avere e per parte generale abbiamo anche dei capitoli parte da parte comuni quindi dividere per ogni diciamo unità immobiliare per parti comuni gli interventi e quindi le misure in modo da avere sempre sotto mano quello che sono le spese e i costi per ogni intervento e per ogni sub e per tutte le parti comuni quindi se a questo sub adesso vogliamo fare degli interventi per esempio vogliamo fare un intervento trainante vedete all'interno della classificazione questi numeri sono riferiti a quelle che sono le schede definite gli interventi definiti all'enea quindi non abbiamo codificato noi ma abbiamo ripreso quello che è la norma ha ha inteso già diciamo descrivere nel per la pratica del superbonus quindi e adesso qua c'è anche una classificazione in base ai colori del tipo di interventi per me tu sono trainanti tutto il resto e così via questo da questo giallo sono è un tisma bonus quindi anche per gli interventi antisismici possiamo intervenire nella computazione di questo del comodo con quanto quindi che cosa faccio spunto quello che voglio realizzare ok facciamo adesso per esempio l'isolamento termico delle superfici verticali e diciamo la sostituzione degli impissi selezioni di oggetti e clicco applica sul capitolo corrente lui creerà la struttura con le stesse codifiche quindi adesso quello che devo fare è trascinare andare a cercare il tariffario le voci ed inserir direttamente nel computo per cercare una voce nel tariffario se io so qual è il capitolo che contiene la voce posso andare a sfogliare fino ad arrivare alla voce oppure potrei fare tasto destro trova non è detto che ne conosciamo tutto il tariffario oppure non abbiamo il pdf a portata di mano cerchiamo la voce clicchiamo quindi come ho fatto tasto destro trova sul tariffario scriviamo la descrizione un pezzo di descrizione e che anche ricchiato cerca lui trova tutte le voci che hanno questa parola questa diciamo questo pezzo di voce all'interno vedete sto passo da riversi mentre l'elettropompa così via e quindi arriva al capitolo anche al capitolo corretto cliccando su una voce io qua vedo la descrizione completa quindi so qual è che sto trascinando questo prendendo quindi poi posso andare all'interno del tariffario sfogliarmela e trascinarmela o addirittura potrei fare doppio clic e lui la mette in automatico nel capitolo corretto quindi ammettiamo il caso che la voce da inserire sia questa prendiamo la voce e la inseriamo la trasciniamo con un drag and drop all'interno del capitolo relativo all'intervento questo modo qua che cosa succede che cosa programma e cosa fa in questo modo crea la voce di elenco prezzi e mi crea la lista delle misurazioni questa è la zona delle misurazioni come vi dicevo prima quindi che cosa faccio vado a descrivere l'intervento addirittura posso scrivere una formula 2 più 3 risultato come se avesse una calcolatrice a portata di mano sono mesi quadri clicco su applica va bene la prima volta il programma mi chiede di salvare il documento e quindi adesso già mi ha inserito la voce all'interno del capitolo corrente proseguo e vado a fare altro diciamo altre voce altri movimentazioni la stessa cosa se come prima basta prendere la voce trascinarla e inserito nel capitolo di interesse ok in automatico il diciamo il computo crescerà vedete i movimenti vanno a sommarsi e quindi io qua nel totale generale o la somma di tutti i totali che in questo caso uno solo e a sinistra vi faccio vedere ciò invece i totali parziali se mi clicco su un intervento mi dà il totale solo dell'intervento se clicco sull'altro al momento mi da zero quindi non mi ha dato ancora niente quello che vi volevo far vedere oltre alla struttura che abbiamo creato dei degli interventi quanto quando genera un super bonus mi crea anche la struttura delle categorie le categorie mi permettono di separare all'interno degli interventi le le varie voci di spese quindi lavori imponibili le spese tecniche tutte spese aggiuntive che poi adesso andremo a mettere all'interno del computo le le liquide iva per per ogni spesa aggiuntiva e quindi quello che devo fare oltre a crea nella creazione del movimento oltre a creare la misura ad assegnargli anche la categoria di interesse in questo modo avrò la separazione delle spese in base alle categorie previste per sempre nella 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 norma nella nella pratica quindi clicco e applico vedete una per una posso aggiungere le categorie potevo fare anche così selezionavo tutto e assegnavo una categoria a tutto contemporaneamente ok quindi per una prossima voce che andrò a inserire se è sempre al lavoro imponibile potrò definire la categoria durante l'inserimento del movimento oppure se io tengo selezionato in questo modo lavoro imponibile ogni voce che vado a inserire lui assegnerà in automatico la categoria selezionata in se vado in tariffario e andiamo sugli infissi ne ho prende c'è l'infisso lo trasciniamo e mettiamo vedete lavoro imponibile già selezionata quindi facciamo porti uguali ok adesso gli interventi sono diciamo lì le movimentazioni sono inserite in tutti i due movimenti interventi e quindi vedete il mio totale è la somma di tutte le lavorazioni se io clicco sulla lavorazione se l'intervento c'è il parziale nelle categorie o la categoria imponibile pari alla sommatoria di tutte le voci all'interno e proseguiamo in questo modo a compilare il nostro computo ma nel computo si può porre anche il problema di inserire una voce da ripartire in maniera uniforme per diciamo percentuale di spesa per tutti gli interventi mettiamo il caso che ci fossero dieci interventi qua dentro per inserire una voce da ripartire per tutti gli interventi non è che io ogni voce clicco sul movimento e vada a mettermi in movimento di quella spesa per esempio i ponteggi no c'è in questo caso qua dobbiamo mettergli in piste dobbiamo fare isolamento abbiamo bisogno dei ponteggi però il ponteggio è una spesa comune a tutte e due come possiamo fare a ripartire una spesa comune a tutti gli interventi del nostro computo andiamo su computo e inseriamo un altro capitolo lo chiamiamo ponteggi ok clicchiamo mantenendoci su ponteggi andiamo su tariffario cerchiamo la voce delle opere previsionali selezionando i ponteggi e creiamo il movimento facciamolo a corpo per complessivi per complessivi mq ok diciamo che sono 200 metri quadrati applica ok questa spesa adesso è ancora un lavoro imponibile ma deve essere partita tutti gli due interventi cosa possiamo fare per ripartirla andiamo nella proprietà e togliamo la voce stampabile è una voce contenuta all'interno del comodo che adesso andremo a ripartire andiamo sulle categorie spostiamoci nella vista dedicata ai capitoli clicchiamo sulla voce ponteggi e ci apparirà un quadro in cui possiamo andare a definire qual è la percentuale di ripartizione possiamo inserirlo possiamo scegliere un metodo di ripartizione prima di tutto dobbiamo selezionare gli interventi su cui vogliamo ripartire questa spesa in questo caso sono due li seleziamo tutti e due selezioniamo per esempio la ripartizione per importo lavori per ogni singolo intervento e il programma calcola una percentuale di ripartizione della spesa a questo punto dobbiamo creare il movimento ponteggio all'interno delle due interventi clicchiamo su genera movimenti sicuro di generare i movimenti e quindi per ogni intervento abbiamo la voce ponteggio ok siamo sempre la categoria perché ci permetterà di tenere la voce classificata ok quindi in questo modo qua e proseguendo con altri tipi di spese e generali io posso sempre inserire diciamo le cose comuni da ripartire per esempio voglio mettere spese tecnica di ripartire potrei creare una nuova voce di elenco prezzi e dare la spesa tecnica direttamente al capitolo corrente oppure creare un nuovo capitolo vediamo spese tecniche generali nel capitolo correndo crea una nuova voce di elenco prezzi vediamo np perché a spesa tecnica generale non la prendo volta rifare quindi vado a creare la voce relativa creo ridotta a corpo e mettiamo che ci siano 5 mila euro di spese tecniche facciamo ok e mettiamo la spesa quindi vedete poi una volta che ho completato la spesa non mi ha chiesto se volevo creare direttamente il movimento volevo crearlo direndo cliccando su sì direttamente oppure una volta create tutte le voce perché posso anche pensare di creare prima un elenco prezzo e poi i vari movimenti vado a creare con il tasto destro un movimento relativi a quella voce e quindi a corpo 1 la quantità perché è pari diciamo al prezzo della voce ok stesso modo vado spese tecniche tasto destro proprietà tolgo questa opzione clicco su categorie vado qua e vado a definire come ripartire ok per esempio adesso questa è la spesa tecnica generale a cui vado ad associare la categoria relativa alle spese tecniche perché non fa parte più dell'imponibile dei lavori ma fa parte della categoria spese tecniche in modo da avere sempre classificato poi vedremo nell'epilogo finale la classifica di movimenti anche separati per categorie di lavorazione e così via ok quindi abbiamo inserito all'interno del nostro computo quelle che sono voci di diciamo prettamente dovuto all'intervento e quelle che sono spese generali ok diamo un attimo personalizzare un attimo questa cosa perché sembra che ha fatto eccolo qua se l'è preso apriamo un computo adesso che è un po' più sostanziale diciamo più sostanzioso più sostanziale più sostanzioso che ci diciamo per farvi vedere un attimo ok questa la salvo e c'è qualche intervento in più per ogni movimento vedete abbiamo fatto più interventi per farvi vedere un po' qual è diciamo il senso di compilazione di una pratica finale nelle categorie abbiamo le categorie così come abbiamo detto prima volendo aprire un file vediamo un attimo se riesco a trovare questo ok e questo è quello di prima abbiamo uno più grande che voglio far vedere che cosa abbiamo aggiunto ok questo è un capitolo un computo con più movimenti all'interno delle categorie abbiamo aggiunto la possibilità di definire anche in automatico l'IVA per ogni voce ad IVA possiamo definire la ripartizione quindi che cosa fa il programma quando faccio questo va ad applicare in automatico l'IVA che io scelgo sulla voce e quindi a generare anche un movimento relativo all'IVA io l'IVA la potrei mettere come voce di elenco prezzi così come ho messo tutte le altre voci oppure diciamo questa è una funzione che abbiamo introdotto nell'aggiornamento pubblicato oggi di creare in automatico le movimentazioni di IVA una volta che ha creato le movimentazioni di IVA queste movimentazioni sono parametriche nel senso che lui ha applicato e ha calcolato un'IVA sulla lavorazione di quella categoria ma nel caso in cui il mio computo non è finito e vado a modificare la voce relativa quindi vado a modificare le misure vado a modificare quella che era la categoria che ne sono responsabile dei lavori e così via modifico il dato in automatico si aggiorna l'IVA quindi la classificazione e l'inserimento dell'IVA è diventata in maniera diciamo un inserimento automatico basta definire qual è la percentuale qual è la percentuale di IVA che voglio applicare sulla voce sulla categoria prevista e farla creare movimentare direttamente dal software attraverso questo pulsante ok andiamo a stampare un attimo il computo stampa il computo abbiamo queste opzioni a noi interessa sicuramente l'epilogo interessa anche la separazione in categorie di tutto il computo ok questo è il mio computo generale che posso sfogliare con le freccette e alla fine avrò invece diciamo un riepilogo economico delle voci vedete le voci sono divise per tipo di interventi e per categorie quindi all'interno di un intervento c'è la classificazione per categorie delle voci di spesa questo è molto importante perché permette poi al diciamo al tecnico all'operatore che legge in maniera economica il computo quindi non in maniera tecnica di avere sotto mano tutte le spese generali in maniera molto dettagliata e quindi siamo pronti poi alla fine per esportare questo computo anche per la nostra piattaforma super check perché poi non è solo la compilazione del computo una pratica super bonus ma è la diciamo proprio la preparazione di tutta la pratica e la gestione della pratica stessa il computo è un elemento della pratica ma non finisce qua magari che cosa possiamo fare sempre attraverso il nostro computo cliccare su gestione documento andare su super bonus e preparare il file per super check super check è la nostra piattaforma che vi permette di elaborare la pratica adesso ho salvato un file xml accedete alla piattaforma super check questa è la pagina del nostro sito che descrive super check e accediamo con il nostro diciamo il nostro account perché comunque è una piattaforma cloud quindi non avete bisogno di avere fisicamente un software sul pc ma diciamo collegarvi al cloud da qualsiasi da qualsiasi computer quindi permette anche la condivisione dei progetti quindi è una piattaforma cloud da tutti gli effetti quindi cosa faccio clicco sul nuovo progetto crea il nome della pratica seleziono il modello di riferimento perché all'interno abbiamo anche già delle checklist preformate e lui mi crea la pratica all'interno della pratica oltre a prevedere tutta la compilazione delle altre dell'altra modulistica posso importare il computo che ho compilato per quale motivo perché adesso bisogna fare la verifica dei massimali quando non ha fatto la verifica dei massimali ma la faccio all'interno di questa piattaforma quindi che cosa posso fare una volta che ho creato la pratica importacomputo importacomputo prendo la pratica e la catturo e la importo ok queste sono le varietà della pratica torniamo qua apriamo la pratica questo è l'unità immobiliare all'interno del computo questo è il progetto questo è il mio quadro economico il piano economico mi dice se ho caricato o non ho caricato correttamente sono all'interno ho sforato i massimali in questo caso qua vedete il pallino rosso mi segnala diciamo lo sforamento del massimale per questa categoria e quindi mi predispone anche la possibilità di procedere alla compilazione della checklist quindi la checklist è divisa in fase 1 valutazione della pratica con la possibilità di diciamo verificare chiudere il documento che compilo quindi in fase di compilazione se ho compilato tutta la parte che riguarda questi documenti in questo caso qua acquisisco la dichiarazione l'inserimento del computo e così via posso cercare e fleggare in verde gli elementi che ho definito e poi ci sono le altre fasi abbio cantiere stato avanzamento lavori e fine lavori quindi la piattaforma SuperCheck è predisposta per diciamo la gestione completa di tutta la pratica è anche divisa in fasi per chi tutti i documenti sono già precompilati e tutto il resto non mi devo più preoccupare di andare a reinserire gli importi definiti nel computometrico perché una volta caricati sono acquisiti in automatico e gestiti nella compilazione dei documenti in alto a destra c'è un bottone utilissimo che si chiama SuperCheck che permette di accedere alla pagina delle FAQ e della guida operativa del programma quindi quanto vi permette di creare un computo diviso già in interventi predisposti alla fine della creazione della pratica e della definizione della pratica questo computo va può essere importato nella nostra piattaforma per poter completare le varie fasi di gestione e processo della pratica SuperBonus quindi in maniera abbastanza semplice riusciamo a compilare un computo e quindi in maniera altrettanto diciamo immediata riusciamo a gestire e a generare tutta la documentazione Veronica se ci sei diciamo io questo è quello che dovevo introdurre eccomi Beniamino sono qui adesso c'è qualche domanda è questo quello che sto vedendo un attimo allora forse mi sono perso allora ci chiedono forse mi sono perso io un passaggio ma in un computo fatto da tabella movimentazioni posso trasformarla nella parte fatta vedere ora? certo certo partiamo da questo partiamo da un computo diverso cioè partiamo se se io ancora non avevo quanto nome la 22 oppure avevo già un computo fatto ma non avevo visto come farlo in un super bonus vediamo come farlo diventare un computo e dividerlo in questo modo qua prendiamo un computo qualsiasi vediamo un attimo anzi lo creiamo un computo facciamo prima quando ci bastano due voci ok se avete già un computo per esempio all'inizio delle pratiche super bonus all'inizio dell'eco bonus avete già predisposto dei computi li potete sempre trasformare adattare diciamo alla questa nuova classificazione facciamo un esempio facciamo sempre campania ecco qua ok copiamoci facciamoci due voci non abbiamo strutture non abbiamo categorie non abbiamo niente abbiamo fatto questo computo siamo andati qua abbiamo computate e così via mettiamo mettiamo delle misure abbiamo il file calcio e strut prendiamo delle voci ok mettiamo giusto un'altra voce mettiamo sempre impissi in modo da tenere fare sempre due classificazioni diciamo così in pvc mettiamo una voce ok sappiamo questo file allora questo file è fatto in questo modo non ho strutture non ho capitolo non ho niente ma ho un elenco prezzo di misure e misurazioni come posso fare stessa cosa di prima apre il computo potete farne anche un computo vuoto e trascinare poi questi movimenti nel computo vuoto però io posso fare anche in questo modo gestione documento super bonus creo il sub ok creo gli interventi diciamo sempre il primo e il quinto ok a questo punto vedete è tutto vuoto però i miei lavori stanno qua dentro mi ha creato sempre le categorie mi porto sul capitolo che contiene i movimenti li seleziono uno o più di uno insieme con lo shift premuto e gli vado a dire il capitolo di appartenenza quindi me li devi togliere dal capitolo generale e mi li devi mettere in isolamento posso dargli anche le categorie in questa fase quindi agevolarmi ancora e vedete lui ha tolto dalla parte generale e ha messo il movimento nella categoria e nel capitolo nell'intervento che ho selezionato stessa cosa per l'altro l'altra voce ma questo lo posso fare pure se sono 100 voci ne posso selezionare pure molte insieme con il tasto control o il tasto shift se sono in sequenza e fare allo stesso modo proprietà in questo caso mi appare questa schermata perché è uno solo sta qua sotto lavoro di appartenenza quest'altro intervento la categoria sempre imponente e faccio ok se c'erano i ponteggi allo stesso modo potevo spostarli in un capitolo di ripartizione generale e così via quindi posso modificare anche dei file già fatti precedentemente ok Veronica eccomi qua Beniamino allora io ne ho anche un'altra di domanda grazie per la spiegazione ci viene chiesto ancora l'importo per le spese tecniche viene inserito dopo aver prodotto il quadro economico l'importo per le spese tecniche dovete inserire alla fine del lavoro quindi una volta che avete completato sì chiaramente dopo che avete completato tutto quello che è la computazione potete inserire quello che sono le spese tecniche oppure le spese di asseveratore e tutto il resto così come vi ho fatto vedere posso creare un sub di ripartizione se le spese tecniche sono sono da ripartire su tutti gli interventi o se per esempio la spesa tecnica dobbiamo collegare a un solo intervento possiamo fare in questo modo qua andiamo su elenco prezzi creiamo una nuova voce nell'elenco prezzi possiamo fare vedere quest'altra opzione chiamarla spese tecniche e creare il movimento direttamente manualmente dentro il movimento che mi serve dentro l'intervento che mi serve creare tutto a corpo metto la quantità ok questa voce adesso ho creato nell'elenco prezzi ma sto in intervento isolamento termico la voglio inserire anche in movimento qui così e metto uno in questo caso qua ho applicato all'interno direttamente di questa voce la spesa tecnica e non l'ha messa come ripartizione di spesa generale quindi se io ho una voce la devo inserire direttamente in un capitolo posso fare anche in questo modo qua se invece voglio ripartire su più interventi posso procedere così come ho fatto prima per esempio le spese di asselerazione facciamo un nuovo capitolo lo chiamiamo assi e razione ci mettiamo su elenco prezzi creiamo una voce di elenco prezzi ok crea ridotta già giustamente 001 già utilizzato quindi il programma mi aiuta anche in questo ok questa voce l'ho messa tutto nel capitolo assi di relazioni che rendo adesso vado a fare vado a togliere il quadro a definire la codifica degli articoli ok e vado a ripartire uniformemente quindi categorie clicco qua clicco su assi di relazioni seleziono tutti gli interventi potete fare anche doppio clicco sulla voce seleziona lui seleziona tutti gli interventi e scelgo in modo di ripartire se scelgo l'altro per esempio uniformemente la divisione è per il numero di interventi se in base all'importo di lavoro di interventi viene calcolato un altro percentuale congenera movimenti lui mi crea per ogni movimento la voce di assicurazione ok un'altra domanda si la categoria responsabile dei lavori si sta qua ok afferisce la figura contemplata in materia di sicurezza oppure più ampliamente afferisce al general contractor esattamente alla seconda al general contractor quindi si ok poi è sempre il tecnico che definisce qual è la voce che vuole inserire all'interno se lei vuole all'interno dei lavori del responsabile vuole inserire quelle che afferisce diciamo all'responsabile la sicurezza può inserire la voce anche relativa responsabile alla sicurezza all'interno di questa categoria la categoria è una classificazione ci permette di definire e di precisare correttamente qual è la spesa che stiamo computando tutto qua ok e un'altra domanda da dove prendo la percentuale relativa all'asseverazione allora la percentuale relativa all'asseverazione io la definisco quella è una spesa l'asseverazione non è una percentuale quindi definito il costo dell'asseverazione io attraverso la divisione posso scegliere di ripartire in maniera uniforme la spesa delle asseverazioni in questo caso la presenza dell'asseverazione può essere definita uniformemente su tutti gli interventi quindi se io scelgo di definire uniformemente lui divide la spesa per gli n interventi quindi definita una una un costo una voce quindi il costo totale dell'asseverazione la posso ripartire uniformemente oppure se voglio la posso sempre ripartire in base all'importo in base all'importo dei vari lavori all'interno del combo dovrà calcolarsi rispetto alla voce di asseverazione qual è la percentuale di incidenza e quindi crea un movimento con la voce ripartita ma l'asseverazione è un costo che viene inserito come voce di elenco prezzi come nuova voce nuova spesa non va definita in base a una percentuale su questa sulla comparazione ed è possibile portare misure in detrazione rispetto a righi di misurazione positivi chiaro basta permettere una riga di misurazione negativa e semplicemente utilizzare il simbolo meno se andiamo di nuovo nei lavori andiamo qua per esempio andiamo sulla spesa di pulizia possiamo mettere che ne so a detrarre scrivere semplicemente in questo modo qua inserire la misura con il meno davanti inserire la quantità a detrarre e premere invio questo è il totale vedete è stata sommata sottratta in questo caso la spesa relativa alla voce a detrarre ma niente di più semplice basta utilizzare il segno meno davanti a una delle misure perché se non è un particolare ma c'è una serie di misurazioni basta rendere negativo il prodotto quindi mettere il meno davanti a una misura un'altra domanda ancora in elenco prezzi è possibile modificare la descrizione della categoria a cui è associata la singola voce in elenco prezzi è possibile modificare la categoria sì tasto destro proprietà e andare a cambiare la categoria ma la categoria non si cambia nell'elenco prezzi si cambia sul movimento perché una voce di elenco prezzi può appartenere a categorie diverse quindi la categoria va a discretizzare il movimento quindi sul movimento tasto destro proprietà e vado a cambiare la categoria di appartenenza ok sul calcestruzzo lo voglio mettere come spesa tecnica giusto per farvi vedere clicco qua e lui mi ha cambiato la categoria la categoria si gestisce sulla movimento diciamo ok è sempre impossibile intervenire per poter modificare allora nella proprietà della voce ci sono una serie di opzioni anche quelle che non vi ho descritto basta leggerle qua dentro e quindi poter cambiare la tariffa per esempio di questo movimento voglio associare una tariffa di elenco prezzi che non era quella precedente clicco qua mi fa vedere tutte le tariffe cambia tariffa tutte le tariffe del mio elenco prezzi basta selezionare un'altra tariffa cliccare su ok lui le stesse misure le applicherà ad un'altra tariffa e così via ok un'altra domanda era questa qui è possibile vedere un esempio con più sub possibile vedere un esempio con più sub eccolo qua per gentile richiesta e faccio vedere un computo fatto aspetti computi computi eccolo qua questo ha fatto un computo di un nostro cliente vedete quindi la divisione la creazione di parti comuni perché intervento relativo a tutte le unità immobiliari la divisione in sub tutti gli altri interventi e qui inserimento in questo modo qua il nostro cliente ha inserito tutte le voci di ripartizione generale quindi la canterizzazione il ponteggio e così via ok è un'altra domanda è questa qui il quadro economico viene generato in automatico posso vedere un caso pratico quadro economico gestione documento quadro economico eccolo qua tutto generato in automatico a questo quadro economico posso aggiungere altre spese ma giusto per se voglio aggiungere un altro capitolo di spesa ma giusto per scrivere qualcosa posso mettere per esempio che non è 0,5% sull'importo se scrivo 0,5 qua e premio invio lui mi calcola questa percentuale rispetto all'ultimo sommano quindi metto una spesa la prima spesa c'ha categoria la seconda spesa metto un altro tipo di categoria quindi e suddivido per categorie di spesa metto la voce metto la percentuale oppure se avevo l'importo perché posso mettere anche un importo posso scrivere direttamente qua dentro ok mi sono calcolati due ammontari clicco qua clicco su sommano lui mi prende gli ammontari li porto nell'ultima colonna cliccando digitando totale o cliccando su totale lui mi fa la somma delle spese aggiuntive applica e quando stampo posso decidere anche di accodare il quadro economico nell'ultima pagina ottenerò anche il quadro economico che non è il riepilogo che è quello precedente il riepilogo quindi questo è il riepilogo quadro riepilogativo così come abbiamo visto prima adesso è strutturato per più capitoli per più interventi quindi un po' più lungo ma nell'ultima pagina abbiamo il quadro economico con tutte le voci che abbiamo inserito e anche le spese che abbiamo messo in più quindi la gestione documento quadro economico lui mi fa vedere il quadro economico dei capitoli e categorie degli interventi ma io posso ancora aggiungere altre voci al quadro economico ok altra domanda il quadro economico diviso per categorie lo posso visualizzare dal computo o devo prima caricarlo sul cloud non ho capito il quadro economico diviso per categorie sì lo posso visualizzare dal computo o devo prima caricarlo sul cloud l'abbiamo già visto adesso quadro economico per categorie lo puoi visualizzare qua lo puoi visualizzare cliccando su categorie oppure lo puoi visualizzare sulla stampa stampa computo estimativo nell'anteprima scegliendo a coda riepilogo abbiamo il riepilogo è chiaro invece che in super check nella schermata di super check vi fa anche la diciamo verifica dei massimali cosa che non fa quanto perché lo facciamo in super check perché non lo vogliamo non lo fa quanto per altri motivi perché la verifica dei massimali viene fatta nella gestione della pratica la nostra gestione della pratica è all'interno di super check quindi una volta che ho caricato il nostro progetto il nostro compito quindi ho la possibilità di verificare direttamente i massimali qua dentro non è necessario verificarli prima quindi qua dentro c'ho il quadro il piano economico e quindi con tutti i massimali ma si tratta semplicemente di creare il file per super check da questo pulsante esporta per super check e caricarlo in super check quindi puoi visualizzarlo in anteprima sulla stampa ma la verifica dei massimali la completi poi con è possibile fare un esempio di analisi prezzi allora per fare un'analisi prezzo ah boh per fare un'analisi prezzo io posso anche mettere una se vuoi possiamo generare un documento di analisi prezzo però se vogliamo creare un'analisi facciamo in questo modo qua computo vuoto elenco prezzi tasto destro nuova voce nel elenco prezzi np punto 001 scavo a sezione obbligato oppure qualsiasi altro tipo di voce quando non trovate la voce nel tariffario regionale o in quello dei la dovete creare dovete giustificare la voce quindi dovete creare una voce e quindi poi una voce un'analisi prezzo clicco unità di misura metto il prezzo a per unità di misura metto uno perché non so adesso quanto è il prezzo verrà fuori dall'analisi e spunto alla voce analisi clicco su ok lui mi dice vuoi generare il movimento però adesso non lo genero perché noi il mio fine adesso non è generare il movimento lo potrò generare successivamente facendo tasto a destra e creando e selezionando la voce il nuovo movimento ok quindi adesso vedete nell'elenco prezzi in corrispondenza della voce che è stata selezionata come analisi appare una cella russa se io faccio doppio clic sulla cella russa mi appare il modulo di compilazione dell'analisi quindi a questo punto come faccio a creare l'analisi se c'ho un tariffario con voce elementare io posso prendere le voce trascinare direttamente qua dentro le voce elementari se c'ho un documento a parte con le mie voce i costi elementari io vado a scrivere manualmente potrei anche creare un archivio all'interno del quanto con i costi elementari se per esempio allora andiamo a definire facciamo una voce mettiamo l'utile mettiamo le spese mettiamo eventualmente l'incidenza delle percentuali e andiamo avanti questi sono i dati le maggiorazioni generali dopo di che andiamo a definire i costi elementari che cosa mi serve per fare lo scavo a sezione applicata sicuramente mi servono i noli mi sarebbe un mezzano quindi una pala meccanica una ruspa e così via clicco nella categoria vado a mettere quello che corrisponde alla mia leggenda alle diciamo annoli di una di una ruspa clicco su 2 e il codice me lo scrivo io perché posso farmi un mio diciamo un mio tariffario un mio elenco di voci elementari quindi n 001 inteso per noli e quindi ruspa per fare un metro cubo di ruspa quante la ruspa lavora d'ore mi servono che ne so il prezzo d'ora è 50 euro mi servono 05 ore 05 ore mezz'ora un po' troppo quindi 0.01 ora ok e vado a computare lui già mi crea l'importo dopodiché mi serve un operario specializzato che sia presso che guidi la ruspa quindi clicco su 1 e metto la mano d'opera quindi md 001 e così via operaio specializzato ok l'opera mi lavora sempre a ore costa 15 euro all'ora e mi bastano pure per lui dieci minuti o decimo di un'ora meglio poi ancora mettiamo un operario semplice md 002 operaio operaio generico lavoratore prendi 10 euro e così via ok questo è per un'unità di misura dopodiché mi serve il trasporto e ci fermiamo trasporto e 4 trasporto a discarica quindi tr trasporto vado a chilometri siamo a 10 chilometri e così via il prezzo di applicazione finale è 141 euro e lui l'ha messo qua io ho partito un euro perché non sapevo quanto era ho messo un prezzo così di base e lui mi ha calcolato tutto il resto quindi cliccando su applica io posso terminare la mia analisi di prezzo a questo punto dall'elenco prezzi posso creare un nuovo movimento e descriverò la voce di scavo per esempio ok salvo il file come sempre se volessi tornare sull'analisi e adesso sto su un movimento e così via doppio clic sull'analisi stampa analisi mi stampa l'analisi e l'analisi me la divide quindi sono importanti le categorie proprio per questo per dividere tutte le manodopere tutti i nodi tutti i trasporti e così via e alla fine dare un prezzo di applicazione se avessi avuto una serie di analisi con stampa analisi potevo stampare tutte e quindi fare un fascicolo di analisi l'analisi la posso anche salvare in un file qai che posso caricare in un altro computo un altro computo che utilizzerò sempre una voce di scavo non andrò a compilare di nuovo l'analisi ma la posso caricare come file e lui mi la lega direttamente all'altro computo ok veronica sì sì sono qua ehm l'hai già detto però ci viene richiesto in questo momento posso importare una voce dal preziario dei? sì basta caricare il preziario dei selezionare un altro tariffario allora i tariffari dei sono tariffari eh a pagamento nel senso che noi forniamo i tariffari pubblici quelli che sono pubblicati della legione e quindi li trovate sul nostro sito nella sezione tariffari i tariffari dei purtroppo non possiamo permetterci di pubblicarli in maniera libera ma vanno necessariamente acquistati alla dei la dei ha due tipi di tariffari il tariffario completo in abbonamento che potete richiedere già nel formato quanto vi daranno un mdb che dovete copiare nella cartella a file dati altrimenti c'è anche una sezione cloud però la sezione cloud è una consultazione di un tariffario in cloud non vi permetteranno mai di scaricare tutto il tariffario ma vi permetteranno di scaricare dieci o quindici voci alla volta potete anche fare in questo modo qua salvare quelle voci in un formato che è un formato xpve e importarle come voce di elenco prezzo al bottone tra bottone rotondo in alta a sinistra in porta con tutto primus perché il formato xpve è un formato relativo a primus quindi io vi consiglio sempre di scaricare fare l'abbonamento perché con l'abbonamento vi danno tutti i tariffari aggiornati per semestre e ve li danno già nel formato quanto così diventa come un formato di nostro che sta sul nostro sito un mdb lo caricate nella cartella file dati col bottone tariffari lo aggiungete e lo selezionate quindi potete caricarlo e quindi trascinare la voce direttamente all'interno il nostro programma quando fate una stampa poi se avete utilizzato voce di più tariffari prima della voce viene indicato in rosso anche da dove deriva quella voce perché è necessario indicare all'interno del computo dove ho ricavato la voce perché indicare un codice senza indicare qual è il tariffario non permette a chi legge la pratica di sapere da dove deriva la voce quindi in ogni caso viene stampato anche il tariffario utilizzato ok sì sì chiaro per ora non abbiamo più domande e abbiamo sforato abbondantemente i tempi quindi io ringrazio tutti per essere stati con noi Beniamino mi confermi che per qualsiasi domanda sei reprimibile al supporto chiocciolanalistgroup.com e all'attenzione di Beniamino Crescitelli per qualsiasi ulteriore domanda seguiranno nuovi webinar sull'argomento quindi qualora ci dovesse essere un dubbio una perplessità sicuramente affronteremo degli approfondimenti successivi nelle prossime settimane appunto e niente Beniamino grazie a te per l'esposizione grazie a voi grazie a tutti i partecipanti con noi questa esperienza e poi ci rifaremo sicuramente con altre novità perché poi è una materia diciamo anche la piattaforma si evolve ogni giorno quindi siamo sempre a disposizione degli utenti e siamo anche diciamo interessati anche alle loro opinioni quindi vi prego di utilizzarlo il software e farci diciamo segnalarci le eventuali necessità che avete per in quanto riguarda l'aggressione di queste pratiche ok grazie ancora Beniamino grazie a tutti buona serata e buon lavoro a tutti salve grazie a tutti grazie a tutti